Da monitorare e da seguire attentamente la situazione di Alain Saint-Maximin al Nizza. È stato un weekend infuocato per l'ambiente rosso-nero della costa azzurra. Il Nizza perde malissimo dall'Angers 3-0 in trasferta ad Angers, ma quello che c'è da monitorare, ripeto, è la situazione di Alain Saint-Maximin, ben seguita anche dalla app di OneFootball. Allora, cosa è successo? Il giocatore ha accusato un problema alla caviglia, si è allenato con fatica tutta la settimana, ma era ancora convocabile. Ha accusato una gastroenterite con attacco di febbre, così almeno ha giustificato la sua mancata partenza in aereo per Angers, per Parigi. Vieira ha detto, io non so nulla, non mi risulta che il giocatore avesse la febbre. Saint-Maximin, un idolo dei tifosi del Nizza, non vuole certo far la figura di quello che non è andato per un capriccio. e ha confermato, lui e il fratello, che il medico è andato e ha rilevato un problema febbrile. Dice Saint-Maximin, il medico dice no, non mi sembrava che avesse grandi problemi, diceva, accusava con atti di vomito, ma io non ho rilevato assolutamente dei problemi particolari. Quindi un grosso conflitto proprio in questo senso. Saint-Maximin non ci sta, ribadisce ancora ieri che si è trattato proprio mandando anche una comunicazione ai tifosi, non vuole passare per un menefreghista in un momento delicato, la squadra va bene, ha battuto il Lione, però è ancora molto alterna, non è, Vieira sta facendo miracoli, ma proprio Vieira. C'è un po' di differenza con la situazione di Icardi. I Icardi e i tifosi sembrano i sondaggi che siano più dalla parte della società che dalla parte di Icardi. Invece i tifosi del Nizia incominciano a porci dei problemi. Vieira, grande allenatore, ha lavorato benissimo con una squadra sinceramente che ha perso Balotelli, che vive non di grandissimi giocatori di qualità, quindi grande lavoro. Però attenzione, litiga con Balotelli è stato durissimo. Adesso rischia di litigare anche con Saint-Maximin, nostro idolo. Beh, ma allora è tutta la colpa dei giocatori o anche di Vieira a livello di atteggiamento sempre piuttosto bruschi a volte? Ho visto proprio un filmato tra lui e Balotelli, molto duri, poco concilianti. Quindi i tifosi si stanno ponendo il problema. Ma tutto questo cosa interessa ai tifosi del Milan? Interessa perché ci sembra di poter affermare senza tema di smentite che Saint-Maximin si sta sempre più allontanando dal Nizia. L'ha già detto all'equipe la settimana scorsa, come riportato ancora dalla app di OneFootball, che il suo destino lo vede lontano da Milano. Il Milan sta monitorando. Attenzione all'inserimento dell'Atletico Madrid e del Borussia Dortmund. E poi ci sono anche delle squadre inglesi che stanno controllando la situazione, che avevano già controllato la situazione. Il Milan pare in totale vantaggio. Quindi Saint-Maximin, possiamo affermare con una certa sicurezza, il prossimo anno non indosserà la maglia rossonera del Nizia. Ma magari un'altra maglia rossonera. Giocatore che potrebbe far salire la qualità dell'attacco rossonero. Costo 20-25, assolutamente abbordabile. Giocatore giovane del 97, figura che piace alla proprietà. Quindi diciamo che la strada da Nizia verso l'Europa è aperta. Però ci potrebbe essere questo viaggio che passa da Ventimiglia e prosegue dopo il passo del Turchino e discesa a Milano. Quindi Saint-Maximin, sempre più lontano dal Nizia. Ora vuole chiudere bene la stagione. E sempre più vicino al Milan è difficile dirlo. Ma indubbiamente si parlava anche di un incontro che non ci risulta essere stato, o perlomeno non è stato pubblicizzato, ancora con i suoi agenti. Attenzione, più che al Borussia Dortmund, più che all'Atletico Madrid, agli inserimenti delle squadre inglesi. Però indubbiamente il Milan è avvantaggiato. Ora deve far fruttare il suo vantaggio per avere un giocatore forte, un giocatore che può giocare in tutti i ruoli dell'attacco per la sua mobilità, che si potrebbe andare bene con Cutrone, finalizzatore, con il cacciatore di taglie, con il pungiglione, perché sono giocatori d'area, lui si muove, al posto di Suso o sulla sinistra. Un giocatore eclettico, un giocatore che conosco bene, un giocatore da San Siro. Grandi gol, andate a vedere i gol realizzati nelle ultime partite, sui canali YouTube, e vi assicuro, è un giocatore da feu d'artifice, direbbero in francese. Traduco, da fuochi artificiali. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti. Grazie. Grazie.